Un appello ad appendere fuori dai balconi e dalle finestre i colori arcobaleno della bandiera della pace, un gesto simbolico che se replicato in più case può rappresentare una risposta di solidarietà ai cittadini ucraini che stanno scappando dalla guerra. Quello del Comitato Centro Storico Alto di Salerno è un piccolo appello per la pace, per ribadire un no convinto alla guerra. Singolare l'iniziativa che ha già coinvolto i cittadini del cuore antico della città dove sono comparse numerose bandiere della pace distribuite dal Presidente del Comitato Centro Storico Alto, Nello Mainente, che stamani ha consegnato la bandiera della pace anche al primo cittadino di Salerno, Vincenzo Napoli, affinché anche Palazzo di Città, Casa dei Salernitani, possa rappresentare una risposta di una comunità unita in una situazione di emergenza. Un gesto che trova la giusta sintesi nella grande catena di solidarietà che in questi giorni sta coinvolgendo tanti cittadini in piccole donazioni al centro di raccolta in via dei canali nei pressi dell'ostello dell'Ave Grazia Plena. Abbiamo consegnato queste bandiere al Sindaco e ci ha promesso di esporle esternamente al Comune perché come Comitato abbiamo lanciato questa iniziativa, un balcone per la pace. Quindi stiamo facendo questa distribuzione di bandiere e finora oltre 70 famiglie hanno aderito a questa iniziativa di appendere simbolicamente queste bandiere ai balconi. È un'iniziativa simbolica e noi l'abbiamo lanciata per dare un minimo di riflessione affinché le persone guardando una bandiera possano riflettere maggiormente su queste difficoltà che ora sono in Ucraina ma in realtà ci sono anche altre guerre in atto. Quindi è una semplice riflessione su quello che può essere una guerra e tutte le conseguenze che il popolo e i cittadini pagheranno. Una bandiera che è esposta anche su diversi balconi qui del centro storico, le sta consegnando proprio in queste ore? In tanti dicono subito sì. Assolutamente, anzi abbiamo delle grosse richieste perché queste bandiere provengono direttamente dai beati costruttori di pace che sono stati i primi a lanciare anni fa questa iniziativa dai quali abbiamo comprato queste bandiere che sono terminate per la seconda volta e quindi adesso faremo una terza richiesta di bandiere perché le persone stanno aderendo veramente in tantissimi, una cosa inaspettata in realtà. Questa è l'adesione con tanto entusiasmo per esporre la bandiera della pace sui propri balconi. Il centro storico si sta muovendo anche per coordinare la raccolta di beni di prima necessità presso la chiesa di Sant'Andrea di Via dei Canali, la chiesa proprio della comunità ucraina, quindi dal pomeriggio dalle 17 alle 20 c'è la raccolta appunto di beni di prima necessità, noi abbiamo invitato anche qualche altro collega commerciante a poter dare una mano per questa comunità che è stata colpita da questa guerra che non ci voleva proprio, però a parte questo si può dare un appoggio regandosi in questa chiesa presso il parroco di questa chiesa per capire un po' di cosa hanno bisogno tra vestiari o medicinali e altre cose di prima necessità.